Eravamo negli anni Ottanta, quando in tutto il mondo spopolava la serie televisiva americana Happy Days. Oggi, a distanza di un tot di anni, grazie alla... La mafia. Stiamo in grado di presentarvi le vere avventure della celebre famiglia americana. Non ci resta che collegarci con... I Kangam. Hey! Ehi, salve, signor Kangam. Ma... Ciao, fofofofo, umsi! Signora Kangam, quanto tempo? Saranno sette, otto anni che non ci vediamo. Allora, cosa ci fai in libertà? Mio marito sta cacca cambiando il divano e sono costretto a star fuori. Per, per, per fortuna potrò pescare le trotrotlet, fare un viaggio con il trotrotollei, mangiare le trotrotrofie, vedere crescere i trotronchi, bere la trotrotrotrotrofie. Troia! Dov'è la mia cena qua? Perché cazzo non sei in cucina, eh? Fì, 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 figa! È tornato mio ma-ma-marito. Corro a nascondermi in cucina. Ciao, fofo, fonzi! Salve, signora Kangam. Cazzo, finalmente! Ehi, Franco! Dove la bagasse qua? Eh, non lo so io, sono appena arrivato. Ah, vabbè, aspetta. Adesso mi bevo una boccia di whisky! E poi facciamo i conti, eh! E tu invece? Cazzo ci fai qua? Eh, vuoi scomparti la bastarda? Eh? Ma no, no. Eh, tra l'altro non sto molto bene, signora Kangam. Mi avrà fatto male la piscia di gatto che ho comprato dai tunisini stanotte. Dai, vieni qua, vieni! Alza la maglietta, dai che sentiamo cos'hai qua, dai, vieni! Grazie, signor Kangam. Allora, di 33? 33. Va, adesso di, sono un ricottaro di merda. Ma no! Ma, eh... Vai, serve! Sì, vai! Sono un ricottaro di merda! Eh, ci siamo quasi qua, eh! Eh, prova a dire, porco d***e! Ma no! Senti, ma com'è che l'hai pippata sta piscia qua? Eh, col culo. Eh, come immaginavo. Allora, qua bisogna fare il vaccino, Franco. Figa, signor Kangam, cosa stai dicendo? Non lo sai che i vaccini rendono autisti? Dai, dai, abbassa i calzoni qua, dai! Ciao, papone! Ciao, forzi! Come va? Eh, dove cazzo l'hai finito? È da un mese che ti cerco. Scusa, papone! Non volevo farti soffrire! Ma quale soffrire? Ti cercavo che c'era da consigliare un panetto di fumo a Mustafa. Io non potevo andare, che mi stavo scannando due nigeriani e sei mesi, capisci? Ma sei mesi! Scusa, papone! Vabbè, dai, io vado, eh, che c'ho da fare due robe in officina. Stai qua, hai fame! Tu adesso ti fai la vaccinazione. Allora, dov'è la siringa qua? Dove cazzo l'ho messa? Eh, vabbè, Ricci, vai al parchetto. Guarda per terra se trovi degli altri. La prima siringa che trovi la prendi e me la porti qua, dai. Ma no, signor Canning, gliel'ho già detto, le vaccinazioni fanno diventare autisti. C'ho paura, dai. Ma quale autisti, autisti? L'ha fatto anche Alfred a piccolo, ora sta benissimo. Sì, è vero! Tra l'altro Alfred l'ho visto questa mattina e vi saluto a tutti, eh! Allora facciamo che vado un attimo da lui al bar e gli chiedo due informazioni. Poi al massimo torno e lo facciamo. Quale bar, Ricotaro? Alfred ha chiuso tutto. Il bar ne l'hanno comprato i cinesi. Sì, è vero! Figa, che brutta notizia. Ma quale brutta notizia, Franco? Finalmente Alfred fa il lavoro che ha sempre voluto fare, fino a piccolo. Eh, che lavoro fa? No! Guida gli autobus. No! No! Sottile gioco di parole, eh! Oh, Dio mio, quanto mi manca il maestro in questo caso. Vedi, adesso ci vorrebbe il maestro che ti fa una bella battuta e ti lancia la basta. Wow, wow! Wow, wow, vuoi farla tu, eh, spiritosone? No, no, grazie. Vuoi farla tu, Luca Alba? No, grazie. Vuoi farla tu, Fabio Lisei? Sì, sai come ci si difende dalle malattie alla passera? No. Con la vaginazione. Bravo! Bravo! Mi hai fatto ridere, Franco! Che schifo, vergognati! Allora, adesso è diversa dalle cagate che vanno di solito. Ma tezza da lui, fa ridere, da te gli vedo le mitole. Sa di comunismo, che schifo! Dai, dai, vai con la basta! Bastard inside the line. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Certo che la legge italiana fa proprio schifo. Io avrò un processo per consumo di stupefacenti e Paolo Nois, rinomato coltivatore diretto, ma niente, siamo proprio ai minimi termini. Adesso ascolterete il livello di italiano del medio ascoltatore dello zoo di 105. E comunque, Paolo, sappi che quasi mi viene voglia di ritornare in monociglio solo per farti sfigurare le tue sopracciglia di merda che hai. A chi avrà le sopracciglia più forti andrà il titolo, dai. Ciao! Grande, Vazzoli! E ci hai fatto conoscere a me e altre migliaia di persone, amici miei. Gigi D'Alessio, che con quella storia del film si è andati tutti a vedere i suoi concerti. Grande, Marco! E non il film, eh! Grande pubblicità per Gigi! Aggiornate quest'app, voglio sentire lo zoo, la puntata di oggi, por... Buona Pasqua! Buona Pasqua! Vazzoli, grazie per avermi fatto risparmiare 60 euro. In tuo onore mi sono tolto anch'io il giuente. Però ho fatto 100 euro di danni. Ho rotto il vetro a forza di sbattere la porta. Numeri uno. Allora, ragazzi, forza! Missione per domani, voglio, siccome abbiamo l'app che ti dà la possibilità di mandare video, fotografie, audio e tutto, allora scaricate l'app così è contento il grassone qua. Ma non sono contento di l'asta tua! Il dardo schifoso che ci guadagna anche del denaro, sì, piene di denaro, pieno di soldi. Le app c'è dentro il sistema bravo! Questo vive a Miami, raggio, con la masta in cabrio! Noi qui a strapparci i denti in radio e non sappiamo come tirare a campare! Bravo! La moglie mantenuta in spiaggia che gli chiede come funziona iTunes, che voglio... Che neanche ascolta lo Zola stronza, ascolta iTunes, la musica, capito? No, perché se qualcuno mettesse a posto lo streaming, si sentirebbe anche lo Zola nell'applicazione! No, perché allora il problema è che il responsabile di 105.net ci odia, allora per fare un torto a noi, fa un torto a milioni di ascoltatori, capito? Ma va bene così, va bene così, prima o poi la ruota gira! Eh, Marco! Il biscione! Siamo un programma inconcludente! Era un po' sottotono comunque! Poi per favore tornare a fare l'antipatico comunista e non il comico, ti prego! E guarda, domani torno al maestro e non c'è più bisogno proprio! No, fa schifo al cazzo! Adesso se mi puoi fare quel passo... Allora, la missione di domani è levarsi un dente, scegliete voi quale, fate una foto e la mandate sull'applicazione dello Zola! Marco, tra i nostri ascoltatori è difficile che ne abbiano ancora in bocca! Non so se li hai visti! Ecco le serate Zoo Party per il prossimo fine settimana! Sabato 30 aprile, Fabio, Alisei e Wender saranno al Diamantic a Gaiarina in provincia di Treviso! Ma il giorno prima, ovvero venerdì 29 aprile, Pippo Palmieri sarà la più famosa festa in Italia! La mostra del Torchiato a Fregona in provincia di Treviso! Per info e richieste, mandate una mail a info.zoparty.it E' bellissima! Ma tu ti rendi conto di... Ma c'è la mostra del Torchiato! Ma siamo una radio nazionale! Il programma più ascoltato in Italia va al coso del Torchiato! Cos'è? Guarda che capace, ci saranno 5.000 persone la mostra del Torchiato! Sì, ti manca la fiera del tortellone! Non lo so, cioè... Com'è che si chiama? No, ripeto, voglio fare una ricerca! La festa del Torchiato a Fregona in provincia di Treviso! Ma c'è uno che deve confessare! Io sono stato alla festa del Vito di Sciola, c'erano 7.000 persone! Sì, zitto! A Fregona, a Fregona! Voglio fare la pinza dalle immagini! Non c'è niente, non c'è un cazzo! C'è campi, 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 c'è gente che sta raccogliendo vino! Ma cos'è il Torchiato? Non lo so! Sarà un vino, cos'è? Famoso scrittore Torchiato! La famosa marcia del Torchiato! Quarantesima mostra del Torchiato! Ma cos'è il Torchiato? Non lo so, ma suona vera! Sono in 7, io non so, 7! 7 più il sindaco che taglia un nastro! Cioè, non so io! E' questo che mette tecnologo! Ah, fermi tutti, fermi tutti! Tra le immagini del Torchiato, c'è una grotta che ricorda molto il culo di una sarda! Ma cazzo ragazzi, cade sempre all'inniato! Ciao, dici ciao! Ciao, dici ciao!